Mi ricordo il giorno, primo aprile 1984, iniziava un'avventura per la WISP in Vivi Città, una manifestazione che prendeva tutta l'Italia, 20 città in contemporanea, alla partenza e la radio che dà il via, pronti, partenza, via e tutti gli atleti vanno verso un traguardo, bellissimo, non solo perché ci sono grandi atleti con grandi nomi, ma famiglie, bambini e tutti si divertono perché è questo che deve accomunare lo sport. È stata una giornata fantastica perché in quell'occasione, anch'io, nel mio piccolo, sebbene una grande atleta ma con la passione sfrenata per la corsa, sono arrivata tra le prime assolute e quindi ancora oggi dopo 40 anni è un ricordo indelebile, magnifico, che sicuramente mi accompagnerà per sempre, perché oggi aver ripotuto con l'emozione far riemergere quei ricordi è stato bellissimo e io auguro a Vivi Città e alla WISP gli auguri per questi 40 anni, ma di continuare così con questo stesso intento e questa stessa passione che unisca tutti. Auguri, Vivi Città, buon compleanno!